Racconta a noi segreti, a chi ne sta a guardare, e da ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole un'altra. Per fare un tavolo ci vuole insieme, per fare insieme ci vuole tutto. Per fare un spunto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. Per fare un tavolo ci vuole un fiore. Poi, per fare un tavolo ci vuole legno, per fare un legno ci vuole un'altra. Grazie a tutti.